Questo è un impianto che abbiamo annunciato più volte perché ci sono stati diversi momenti di stop e ripartenza, ma questa è la partenza giusta. È un impianto desiderato con una grande funzione sociale come è lo sport, ma che permetterà a tanti giovani di potersi allenare in sicurezza. È un impianto che mancava nella città, dedicato alla parte ciclistica e alla parte rotellistica. Ed è stato condiviso con le due federazioni, quindi è un impianto che sicuramente potrà ospitare competizioni di interesse nazionale, ma soprattutto darà una risposta a tanti giovani che si vogliono avvicinare o già praticano pattinaggio piuttosto che ciclismo. È un percorso che nasce qualche tempo dietro, anche con un finanziamento importante ottenuto dal comune di 700 mila euro, oltre al milione 3 che ha stanziato il comune di Pesaro per andare a realizzare un impianto sportivo importante. Entro la seconda settimana di gennaio partiremo con la manifestazione di interesse, il tempo per la procedura di aspettamento della gara e arriveremo a marzo con la consegna all'avvio dei lavori. Andremo a realizzare, come dicevo, due chilometri e due di pista ciclistica immersa nel verde, quindi un impianto sportivo anche fortemente voluto dalle tante società sportive. Ci saranno anche 700 metri di impianto per le rotelle, quindi per la rotellistica. Anche questo era una progettualità che da tempo la città si aspettava e per il quale oggi siamo finalmente nella fase di dare il bio ai lavori dopo una conferenza dei servizi che si è conclusa a fine luglio che ha richiesto anche alcune rivisitazioni di quello che era il progetto. È un'area non abbandonata, diciamo incolta, ma che sicuramente è un impianto che si inserisce in un contesto verde, ma che sicuramente permetterà di riqualificarlo, di mettere in sicurezza anche l'argino del fiume, quindi diciamo che avrà diverse funzioni.